e andiamo a vedere come produrre questo pistacchio utilizzando proprio la nostra ricetta del libro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il pastorizzatore in questo momento è vuoto perché quando c'è una piccola quantità di miscela nel pastorizzatore chiaramente poi non pesca più l'agittatore e si potrebbe formare una crosticina sulle pareti. Quindi quando ci sono 5, 6, 10 litri di miscela conviene toglierla e metterla, almeno per quanto mi riguarda, io la metto in un bidone e poi la utilizzo nell'arco della giornata. Quanto dura una pastorizzata? Normalmente si parla di 72 ore, quindi sono 3 giornate. 3 giornate. Quindi noi abbiamo fatto la pastorizzata ieri, siamo abbondantemente all'interno delle nostre 72 ore, anzi abbiamo dato anche il tempo di maturare la nostra miscela che adesso è all'interno di quel frigo che vedete là sotto. Eccoci qua. La prima cosa da fare naturalmente è se fossi nel laboratorio, cioè se avessi la miscela nel pastorizzatore andrei a spillare direttamente dal rubinetto. avendolo già messo in frigo, io lo vado a prendere semplicemente qua. L'abbiamo già tolto stamattina, quindi ne abbiamo una parte. È una miscela fluida, puoi anche avvicinarti un pochino per far vedere la consistenza. Vedete che non è proprio latte, è una miscela che dentro ha una serie di ingredienti, che sono appunto latte in polvere, panna, ci sono zuccheri diversi, gli stabilizzanti, insomma tutto quello che ci serve per fare la nostra ricetta. Allora, in questa ricetta di 4 kg, andremo a mantecare 4 kg, metteremo 3 kg 540 di base bianca. Ecco qua. Perfetto. Uno sgarrato di 2 grammi, ma ci sta sulla base. Poi, questo adesso, normalmente noi gli ingredienti li andiamo a pesare direttamente dentro il secchio, ma per chi magari ha poca esperienza o è alle prime armi, io consiglio sempre di farsi le varie ciotoline separate, in modo tale da evitare magari degli errori, perché se mi capita di pesare, che ne so, vediamo un po' qua. 8 grammi di sale, perché noi nel pistacchio lo saliamo un po', per cui 8 grammi significa 2 grammi a chilo che mettiamo nella miscela. Quindi, facendo così, siamo tranquilli che se dovessi metterne di più, poi lo vado a recuperare. Ecco, siamo a 8, perfetto. E posso metterlo direttamente dentro. Poi, un altro ingrediente che ci serve nel pistacchio, nel gelato a pistacchio, è un po' di destrosio, perché? Nella miscela che io ho fatto, cioè nella base bianca, la base bianca deve essere una base che può andare bene un po' per tutti i gusti, o comunque per un numero abbastanza ampio di gusti. Ci sono alcuni elementi, alcuni ingredienti, come le paste grasse, che tendono a, essendo molto solide e molto fibrose, a indurire il gelato nel tempo. Per cui, quando io vado a fare una base, e può essere compatibile con tanti gusti diversi, per certi gusti dovrò fare delle compensazioni. Cioè, aggiungere un pochettino di potere anticongelante, in questo caso, perché altrimenti il gelato mi indurirebbe alla stessa temperatura degli altri. Allora, cosa faccio? Aggiungo un pochettino di destrosio. Il destrosio è uno zucchero che ha un potere anticongelante pari a 1,8 in più dello zucchero normale, del saccarosio da cucina. Quindi vuol dire che più o meno 50 grammi di destrosio è come quasi 90 grammi di saccarosio, da un punto di vista del potere anticongelante. Però, da un punto di vista della dolcezza, no, perché significa che io ne metto praticamente la metà, aggiungo metà di zucchero, uno zucchero che tra l'altro ha un 25% di dolcezza in meno. Quindi non vado a cambiare troppo la dolcezza del mio gelato, ma mantengo il mio gelato più morbido. E questa è una regola fondamentale che si impara già dalle prime giornate dei corsi che noi facciamo, perché gli zuccheri sono la materia più importante da conoscere in gelateria. Quindi, vado a prendere il destrosio, puoi pure seguirmi. Io il destrosio l'ho messo all'interno di una tramoggia. Queste tramoggi mi servono perché, spesso poi, da un punto di vista ergonomico, un laboratorio così grande mi permette, cioè mi obbliga a fare tanta strada. Quindi, se io voglio evitare di fare strada, mi porto questa vicino e poi, dentro ci sarà il sacchetto con la mia sassolina con il destrosio e vado a mettere, in questo caso, 32 grammi di destrosio. Lo ripeso di nuovo su questa bilancia. Ecco, bisogna fare molta attenzione, sia per il sale, sia per il destrosio, di essere molto precisi, cioè di non andare né sopra né sotto, perché sennò poi ho un risultato diverso. Quindi, io adesso questo destrosio lo posso mettere nella mia miscela di base bianca, anche a freddo. Non ho la necessità di riscaldarla questa miscela, è già fredda, è a 4 gradi, è già stata pastorizzata prima. Gli ingredienti che sto inserendo adesso sono ingredienti che non hanno delle contaminazioni batteriche, perché sono degli zuccheri che vengono utilizzati proprio per conservare il sale, lo zucchero, e anche le paste grasse, sono delle paste anidre, cioè non hanno umidità dentro, hanno solo la pasta, per cui non possono proliferare batteri in questo. Quindi io gli do una piccola girata con la frusta, poi vi dirò anche il perché utilizzo la frusta e non utilizzo il frullatore, e poi devo fare, devo aggiungere la parte fondamentale. Che cos'è la parte fondamentale del gelato al pistacchio? Il pistacchio, il pistacchio che in questo caso è una pasta, vedete, è una pasta qua, è una pasta che ha un colore scuro, come vedete c'è dei piccoli pezzettini dentro, i puntini neri che sono un po' di, probabilmente di buccia, di cuticola del pistacchio. Questo è un pistacchio siciliano che viene proprio da un produttore locale di Bronte. Non è un pistacchio Bronte DOP, ma è un pistacchio semplicemente siciliano, che di fatto ha quasi nessuna differenza rispetto al Bronte se non il prezzo. Allora, quindi questa pasta di pistacchio vuol dire che, come è stata ottenuta? È stata ottenuta attraverso una macinazione del frutto, tenendo controllata la temperatura, perché il pistacchio prima va naturalmente tostato, ha una certa tostatura, dopodiché viene ridotto in pasta con dei mulini, possono essere mulini a pietra, a biglia, eccetera. Cosa che nel nostro laboratorio è difficile fare, perché non abbiamo dei mezzi così, come dire, industrialmente performanti. Potremmo utilizzare un cutter, ma il cutter non riuscirebbe mai ad arrivare a questa finezza, anche se questa non è delle più fini, è ancora abbastanza grezza. Bene, allora andiamo a mettere, in questo caso io metto 105 grammi a chilo in questa ricetta. Mi piace sentirlo il pistacchio. Quindi sono 420 grammi nella nostra ricetta, che inserisco qua, anziché andare direttamente. Poi naturalmente quando sarete esperti, l'andrete a mettere direttamente dentro la vostra miscela. Ecco, io la prendo con il cucchiaio e non la verso direttamente per un motivo ben semplice. Le paste grasse naturali, come la nocciola, il pistacchio, la mandorla, sono composte da fibre e da oli, oli vegetali interni, l'olio del pistacchio ad esempio, che tende, se il prodotto è naturale e non ha emulsionanti, a separarsi un po' nel tempo. Cosa significa? Che quando io vado a comprare questi prodotti che mi li portano, devo controllarvi una volta che li apro per vedere che non siano separati. È un processo naturale la separazione, perché comunque il tempo fa sollevare l'olio in superficie e tutto il resto rimane sotto. Per cui, cosa bisogna fare quando si apre una di queste confezioni? Girarla, mescolarla bene. Se è tanto tempo che è rimasta lì, perché queste comunque hanno una scadenza di un paio d'anni, alcune, può darsi che nel tempo ci sia una forte separazione. A quel punto lì conviene frullarla con un frullatore immersione. Ecco, evitare di mettere direttamente così significa mettere un prodotto che sia omogeneo, perché se io lo faccio senza mescolarlo prima, potrei mettere più olio che fibra e poi dopo mi rimane una parte dura sotto. Quindi si sbilancia completamente la ricetta. Cioè quando io vado a fare il bilanciamento dei grassi e delle fibre della mia ricetta, non corrisponde perché ho usato male il prodotto. A questo punto posso utilizzare una paletta detta lecca pentole in gomma e far scendere il mio pistacchio all'interno della mia base bianca. Abbiamo già inserito tutti gli ingredienti, facciamo tutto a freddo perché, come ripeto, la pastorizzata l'abbiamo già fatta ieri della base bianca. Quindi abbiamo il gusto del pistacchio esattamente come è quello del nostro barattolo. Quindi non viene scaldato in nessun modo. Adesso, a rigor di logica, si dovrebbe frullare. Giusto? Scommetto che la maggior parte di voi a questo punto prende il frullatore e lo mette qua dentro e frulla violentemente. Magari gli hanno detto così i grassi si mescolano bene, si mescola tutto bene. E' vero, però succede anche un'altra cosa. Allora, quando, e questa è un'anticipazione di quello che noi poi faremo nei nostri corsi anche più o meno avanzati, quando noi andiamo a fare una pastorizzata, dopo che è finito il processo di pastorizzazione, di riscaldamento e di raffreddamento, la miscela si ferma, si matura, è un po' come il pane. maturando la struttura dei grassi e di tutti gli ingredienti che sono stati messi, si è cristallizzata e si è messa in una determinata forma, che è quella ideale che ci serve poi quando andremo in mantecazione per trattenere la giusta quantità di aria. Perché poi, anche lì, c'è tutto un discorso legato all'aria nel gelato che è molto interessante da fare, che però adesso non abbiamo il tempo di farlo, ma nel corso base lo facciamo in modo molto approfondito. Cosa succede se io vado a frullare violentemente una base bianca e la vado a mettere subito in macchina? Che vado a rompere questa struttura, che faticosamente ho creato con gli stabilizzanti, con la maturazione, le proteine che si legano insieme ai grassi, insieme all'aria. Quindi, da esperimenti fatti, soprattutto quando io ho delle paste grasse, come il pistacchio, la nocciola, che hanno degli oli diversi, che quindi io, frullando questi oli, hanno una struttura, una cristallizzazione diversa da quella del latte. Vado a scombinare la struttura e il risultato che posso ottenere è che il mio gelato tenderà a indurire un pochino di più e a prendere un po' meno aria. Allora, facendo semplicemente una frullata a mano con la frusta, non è vero che non mescolo, perché se guardate il prodotto è completamente uniforme. Tra l'altro, anche la macchina mescola, perché gira abbastanza velocemente. Quindi non c'è il problema di dire non ho mescolato bene, il gelato mi viene a pezzi. No, non è proprio il caso di poterlo dire. Quindi, a questo punto qua, io questa miscela, che è pronta, la vado a mettere nella macchina. Francesca, mi segui? Anzi, faccio andare un po' indietro. Allora, inquadriamo il display in questa macchina. Allora, questa macchina qua ha diversi programmi. Se io vado qui, mi dice che cosa vuoi fare? Crema massima, crema media, crema minima, oppure crema estraminima, significa magari due chili di gelato, due chili e mezzo, oppure vuoi fare la frutta, frutta massima, frutta media, ci sono tanti programmi. Quello che interessa a noi in questo momento è fare un gelato di crema possibilmente minima, perché abbiamo 4 chili, la macchina lavora, non deve lavorare a massimo regime, massimo regime qua sono 8. Allora, mettiamo al minimo. Cosa devo fare? Devo versare la miscela direttamente qua, non devo riscaldarla. Quindi questa macchina qua la stiamo usando come se fosse un mantecatore normale. Dimenticatevi la parte di sopra, in questo caso non ci serve. Quindi cosa faccio? Verso direttamente qua. Apro questa in modo tale da tanto dentro non c'è niente e mi facilita l'ingresso. Devo sempre controllare la macchina che è pulita, è stata sanificata e adesso e adesso vado a inserire la miscela. La miscela la verso tutta. Gli do, appunto, vado a cercare di mettere tutta la miscela nella macchina. Tenete presente che c'è sempre un pochino di sfrido, no? Cioè, di prodotto che noi perdiamo da quando lo pesiamo a quando esce fuori il gelato. Dipende un po' dalle macchine e da quanto siamo bravi a pulire i contenitori che tengono la miscela. Quindi, più facciamo questo lavoro ben fatto, ci perdiamo magari qualche secondo in più, più gelato riusciamo a produrre. Anche perché quando andremo a fare l'analisi dei nostri costi dovremo valutare anche una piccola perdita. Ora, io ho fatto dei calcoli che normalmente su una vaschetta da 4 kg o comunque una mantecata in genere ci sono dai 150 e 250 grammi che se ne vanno. Cioè, se ne vanno, rimangono parte nel, diciamo, negli strumenti di miscelazione e nel contenitore e parte rimangono anche all'interno della macchina una volta che è finito il processo. È una cosa naturale, è normale che sia così, purtroppo non si può avere il 100% del prodotto. Allora, arrivato a questo punto avevamo prima visto, aspetta che chiudo qua così avevamo visto che se io schiasso adesso qua rimane memorizzata la programmazione di prima. Dopo qualche secondo parte la macchina quindi incomincia a girare. Girare, adesso la macchina è calda per cui ci metterà un pochettino di più come nella prima mantecata ma poi quando ci saranno da fare altre mantecate sarà sempre più veloce perché chiaramente il cilindro e il gas è entrato in circolo e quindi funziona più velocemente. Nel frattempo che cosa faccio? Beh, intanto se io sono in una produzione giornaliera ho il tempo di andare a preparare delle altre ricette. Più ricette mi preparo in sequenza corretta più gelato riesco a produrre. Ma questo gelato una volta che la macchina tra l'altro ha un programma che mi chiama quando è pronto nel senso che a differenza delle macchine verticali di una volta che dovevi guardare e dovevi sapere quando il gelato era pronto queste qua hanno dei sensori un sistema di rilevazione di temperatura di tempo di consistenza che ti chiamano loro cioè nel senso ti fanno un segnale acustico e tu quindi sai che in quel momento lì possibilmente il gelato va estratto. Te ne accorgi anche guardando il display il display è fatto in questo caso con tre numeri in basso nella riga di basso in basso con una diciamo una riga che piano piano si illuminerà fino alla fine fino al raggiungimento di 100 quindi vuol dire che 100 è il numero di consistenza impostato da questo programma che io posso cambiare se voglio però diciamo che per me va bene così perché comunque abbiamo già utilizzato e testato questo programma il numero di qua a sinistra significa che la miscela in questo momento ha una consistenza liquida cioè è 0,12 0,13 fino ai 25 30 la miscela è ancora molto liquida poi piano piano incomincia a diventare sempre più consistente fino ad arrivare a 100 quando arriva a 100 la macchina incomincia a suonare a quel punto lì io posso decidere dove mettere il mio gelato se io ho delle vaschette quadrate quelle rettangolari quelle grandi quelle lunghe lo posso mettere lì altrimenti noi che abbiamo il sistema delle carabine andremo a prendere una carabina ma questa carabina dove la prendiamo? faccio vedere venite con me allora una carabina la possiamo prendere da qua però questa carabina qua è calda perché nel nostro laboratorio ci saranno 25 26 gradi non lo so e comunque fa caldo qua se io dovessi mettere il gelato che esce a una temperatura interna intorno ai meno 9 meno 10 in una carabina che ha già 27 gradi è evidente che il primo gelato che cade qua dentro a contatto dell'acciaio caldo si scioglie e quindi mi fa la quetta sotto cosa che poi nel tempo si solidifica ma si solidifica in modo sbagliato cioè con dei cristalli molto grossi e mi dà sensazione di freddo al palato quindi che cosa facciamo? utilizziamo il nostro abbattitore di temperatura per raffreddare la carabina potremmo anche lasciarla nel banco se avessimo un banco vicino ma non ce l'abbiamo quindi noi andiamo a metterla direttamente qua dentro naturalmente questo banco questo abbattitore va acceso lo accendiamo e scegliamo qual è il programma di riferimento questo abbattitore può essere utile anche per fare torte semifreddi e quant'altro noi lo usiamo per il gelato quindi schiacciamo gelato appare un numero questo numero di 240 sono i minuti che l'abbattitore nel momento in cui io schiaccio start va avanti a lavorare in continuo quindi vuol dire che fa sempre freddo 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 per 240 minuti il numero rosso qua sotto è la temperatura che c'è qua dentro come vi dicevo siamo intorno ai 25 gradi anche all'interno del nostro abbattitore allora io accendo l'abbattitore ci sarà un po' di rumore e a questo punto la temperatura qua scenderà fino ad arrivare a meno 25 quindi ci saranno 50 gradi di escursione termica questo è importante nel senso che l'abbattitore fa il suo lavoro se la temperatura è molto bassa quindi se io accendo l'abbattitore e ci metto il gelato che non ho ancora raggiunto ad esempio in meno 10 meno 12 il gelato non si protegge cioè addirittura è più freddo il gelato della camera quindi devo aspettare almeno che arrivi alla temperatura di servizio quindi a meno 14 ma se è a meno 20 meno 25 è meglio adesso l'abbiamo acceso un po' tardi ma vediamo dovrebbe fare abbastanza presto a raffreddarsi a raffreddarsi a raffreddarsi